L'arte contemporanea non è mai stata così viva come quella nelle sale del premio Combat Prize. L'edizione 2017, l'ottava dell'internazionale con le sue cinque sezioni, pittura, grafica, fotografia, video, scultura, installazione, distribuite nelle tre sedi espositive, il primo piano del Museo Fattori per la grafica e la fotografia, ancora il primo piano del Plesso Ex Granai per la sezione pittura e Fortezza Vecchia di Livorno per video, scultura, installazione. Ha visto un totale di 80 opere selezionate per il Giro di Boa in dirittura d'arrivo. Ai vincitori delle sezioni capitali si aggiungono i premiati ai premi speciali tra cui Fattori Contemporaneo che permette all'artista una personale al Museo Fattori e ancora tra gli speciali solo per gli under 35 il premio speciale Art Tracker Luca Art Fair che forma un gruppo di quattro artisti in vista della realizzazione di un progetto curatoriale da esposizione. Gremita la Sala degli Specchi di Villa Minbelli, il tavolo della giuria in piedi ha chiamato a ripetizione a ritirare le targhe e pergamene di Combat Prize 2017. Palpabile l'entusiasmo degli artisti partecipanti, accolti da una giornata torrida e arrivati da varie nazioni. Il Combat Prize infatti vuole tra le sue fila chiunque desideri partecipare, senza discriminazioni né di bandiera né di età né di tipologia. Con le cinque sezioni si abbracciano le arti contemporanee in ogni genere di espressione e infine senza fornire un tema a cui aderire. Il tema libero è la punta di diamante del Prize, è ciò che permette di incidere l'arte contemporanea, imprimere un negativo sui bisogni espressivi degli artisti. Con Combat Prize siamo all'assalto della scena internazionale.